L'arrivo di Ida al trono ha scatenato varie supposizioni riguardo alle altre protagoniste del cast. Maria De Filippi potrebbe decidere di non confermare Gemma Galgani. Inoltre, si mormora che la redazione abbia in serbo una sorpresa per il pubblico, affidando la poltrona rossa a Tina Cipollari. Prima di continuare, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Grazie di cuore se lo farai. Nei prossimi episodi, i fan saranno testimoni dei ritorni in studio di Ida Platano e Armando Incarnato, entrambi reintegrati nel cast fisso del dating show dopo un'assenza prolungata, ma con ruoli diversi. Le anticipazioni dell'ultima registrazione rivelano che la Bresciana è stata promossa da dama atronista, mentre il napoletano mantiene il ruolo di cavaliere nel parterover. Tuttavia, questi potrebbero non essere gli unici colpi di scena che la redazione ha in mente, online si sussurra di possibili cambiamenti che Maria De Filippi sarebbe pronta ad apportare al suo show di incontri, sia nella versione senior che in quella giovane. L'assegnazione della poltrona rossa alla 42enne Ida ha già apportato una parziale rivoluzione al trono classico, rompendo il consueto schema di un giovane alla ricerca dell'anima gemella. Secondo le recenti voci, Gemma Galgani potrebbe non far più parte del trono over, poche si dice che la conduttrice sia stanca delle dinamiche sempre uguali della torinese durate circa 13 anni. Da quando Maurizio Laudicino ha abbandonato il programma insieme a Elena Di Brino, la dama è tornata nell'ombra e le notizie su di lei sono state scarse, a parte il respingimento da parte di Silvio Venturato, avvenuto in una puntata di Ued ancora da trasmettere. I ritorni di Ida e Armando potrebbero allontanare ulteriormente Gemma dalle trame più intriganti, portando forse alla sua uscita di scena alla fine della stagione. Ida, Armando e Gemma potrebbero non essere gli unici storici protagonisti coinvolti nella rivoluzione di Maria, Tina Cipollari potrebbe presto vivere un cambiamento inaspettato. La teoria più accreditata tra i fan di Ued è che l'opinionista possa prendere posto sul trono per cercare l'anima gemella. In un'intervista a Verissimo la scorsa domenica, Tina ha confermato di essere ancora single. Dopo la sostituzione di Manuela Carriero con Ida Platano, il pubblico si aspetta di tutto nelle prossime puntate, compresa la possibilità che la bionda opinionista accetti l'esperienza da tronista dopo 23 anni al fianco di Gianni Sperti come commentatrice delle storie altrui. E voi, cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale.